Non ce l'ha fatta Antonietta, la giovane mamma originaria di Multano Antilia, che circa due mesi fa venne ricoverata a causa delle sue condizioni gravi dovute alla positività al Covid-19. La donna fu ricoverata prima al San Luca di Vallo della Lucania e poi trasferita d'urgenza in un ospedale del Napoletano, dove venne alla luce anche la sua piccola fatta nascere prematuramente, poi deceduta purtroppo qualche giorno dopo, una storia triste dove in tanti nel Cilento hanno sperato fino alla fine di rivedere Antonietta. Un momento tragico, un momento toccante, un momento pregnante, carico di notevoli contenuti emotivi, un momento che non sarebbe mai dovuto giungere. Lo scrive il sindaco della comunità di Montano Antilia, Luciano Trivelli, sulla sua pagina Facebook. Tutta la comunità montanese, unitamente al cilento intero, segnati da profondo e sentitissimo dolore, si stringono intorno alla famiglia. Un figlio che non vedrà mai più con lei, che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni, che non rivedranno più la loro amatissima figlia. Noi tutti che non intercetteremo più il tuo dolcissimo sorriso. Il grande cuore di Antonietta, ahimè, ha cessato di pulsare presso un nosocomio partenopeo da qualche minuto all'ottato, ha combattuto, ha fatto il possibile fino alla fine, ha provato tutto il dolore. Sì, un dolore che non dovrebbe albergare da nessuna parte, continua Trivelli. Antonietta ha intrapreso un viaggio verso il paradiso, lì dove incontrerà altri angeli, in questa ancora più cupa serata di novembre. Questa è la vita, sì, una vita crudele, spietata, ingiusta, dove gli spunti riflessivi dovrebbero lasciare spazio soltanto a grandi manifestazioni di affetto, stima, riconoscenza e amore, conclude il primo cittadino.